Ciao ragazzi da Vittorio, il giorno dopo Torino-Lazio facciamo insieme l'analisi della partita e le pagelle che mi avete chiesto. Ne facciamo tutto in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se sei un tifoso della Lazio iscriviti al canale perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla Lazio, quindi clicca e iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai la notifica da YouTube. Mi raccomando, mi avete chiesto le pagelle, mettete almeno 50 like altrimenti terminiamo qua l'esperimento pagelle. Torniamo a parlare di Torino-Lazio, grandissima vittoria della Lazio, grandissima rimonta. Partiamo dalle pagelle dai. Stracoscia senza voto direi perché non ha fatto niente, Torino ha fatto un tiro in porta, il rigore, basta. Per cui Stracoscia è veramente spettatore non pagante della partita. Acerbi sei e mezzo, l'ho visto molto stanco nella ripresa però tutto sommato ha avuto poco da fare perché Bellotti non si è praticamente mai visto. Bravo lui ad annullarlo ma anche il Torino l'ha servito pochissimo. Patrick ancora un'altra grande partita, direi sei e mezzo anche lui. Fase difensiva splendida, non ha mai sofferto e quando ha potuto è andato avanti ad aiutare il centrocampo ad impostare, per cui altra buona prova di Patrick. Anche Radu sei e mezzo, partita tranquilla, niente di speciale da segnalare, abbiamo visto spesso avanzare e provare anche il cross un paio di volte, per cui bene anche Radu. Parolo sei e mezzo, sbaglia, il rigore secondo me è soprattutto colpa di Parolo, regala la punizione, rimette in centro dell'aria quel pallone, non si capisce perché. Però nel secondo tempo fa bene e soprattutto è lui che procura il gol vittoria, il tiro deviato era di Parolo, per cui sei e mezzo anche a lui. Johnny sei e mezzo, Johnny mi è piaciuto tanto, tanto. È migliorato rispetto alle altre performance, secondo me non so se sia stata la migliore partita di Johnny alla Lazio ma sicuramente una delle migliori. È vero che il Torino non ha attaccato quasi mai, ma l'abbiamo visto molto più attivo Johnny quando spingeva finché è retto. Ecco, al sessantesimo è scoppiato ma ci sta, visto che ha giocato tre partite di fila, tre partite in sette giorni, lui che praticamente non ha mai visto il campo. Lazzari cinque e mezzo, Lazzari forse la sua peggior partita alla Lazio, mai incisivo, mi è apparso sempre in grande difficoltà, non è mai riuscito a superare l'uomo. Quei pochi palloni ha messo dentro, spesso erano sbagliati, per cui la peggior partita di Lazzari. Io infatti mi aspettavo l'ingresso di Marusi, ci dò un minuto all'altro, evidentemente Adam non era in condizione di entrare. Luis Alberto sette, Luis Alberto sette decisamente un altro giocatore rispetto a Bergamo, non è un caso che quando sale lui la Lazio diventa pericolosissima. L'assist per il gol di Ciremobile, ma non solo quello, insomma, Luis Alberto è stato il regista, quello che ha guidato la Lazio la rimonta. Milinko Isavic, sei e mezzo, bene, ma secondo me il giocatore si vede che è stanco nel secondo tempo contro Torino, era meno brillante, però ha combattuto su ogni pallone, ha lottato alla grande, per cui direi che il sei e mezzo se lo merita. Caicedo cinque e mezzo, non stava bene, si vedeva, ha fatto fatica tutta la partita, non era in condizione, per cui non ha brillato, però certo, la Lazio ha questo problema, nel senso che sia lui che Correa non stanno bene e si vede, sono praticamente un uomo in meno. Ciremobile sette, sette perché nonostante le polemiche, le critiche, eccetera, Ciremobile il gol lo fa sempre. Alla faccia di quelli che dicono che segna solo sul calcio di rigore, oggi contro Torino ha fatto un bellissimo gol, bravo a proporsi e bravo a finalizzare, perché non era facilissimo. Sì, nel primo tempo sciupa due occasioni, ma Ciremobile è sempre stato pericoloso nell'arco di 90 minuti, la sua assenza contro il Milan sarà pesantissima. Correa cinque e mezzo, come Caicedo, è entrato nella ripresa, non ha fatto bene, si vede che non sta al massimo di recuperare per il Milan, perché la Lazio non ha tantissime alternative là davanti. Lukaku sette, Lukaku sette è entrato, ha giocato benissimo, ha messo dentro un sacco di palloni, ha annientato Ansaldi che era entrato per far spingere il Torino, forse la sua miglior partita alla Lazio di Lukaku, almeno negli ultimi 3-4 mesi, per cui direi molto bene Lukaku. Bastos, senza voto, è entrato, ha gestito il finale di partita con grande autorità, nessun grande problema, il Torino del resto ha provato a spingere, ma non si è mai reso pericoloso, per cui anche Bastos direi senza voto. Javan Anderson, sei e mezzo, ancora un'altra volta che entra e fa bene, questo è un ragazzo da seguire con attenzione, perché secondo me può essere un po' la sorpresa di questo finale di stagione, per cui vediamo, vediamo che cosa succede nelle prossime partite, ma è un ragazzo molto interessante. Il mio commento sulla partita è che la Lazio è partita distratta, il gol, il rigore concesso dopo 2-3 minuti, è il segno, secondo me, di una Lazio scesa in campo poco concentrata, del resto quando giochi in uno stadio deserto ci sta che fa fatica a concentrarti, il Torino è stato bravo a sfruttare quell'occasione, ma dopo il Torino è veramente sparito dal campo. La Lazio ha meritato questa vittoria, anzi direi che il risultato forse è troppo stretto alla Lazio, che poteva tranquillamente vincere 3-4-1. La strana sensazione, non so se l'avete avuto anche voi nel secondo tempo, che anche sull'uno pari l'idea che la Lazio avrebbe vinto questa partita, perché il Torino veramente non usciva dalla metà campo, la Lazio creava tante occasioni, magari non ha tirato tantissimo in porta, però la Lazio veramente sembrava in totale controllo del match. Anche nel primo tempo, che la Lazio ha chiuso sotto 1-0, il tabellino diceva 5 tiri in porta della Lazio e solo uno del Torino, il calcio di rigore. Possesso di palla, decisamente a favore della Lazio, insomma questo per dirvi che qualcuno dice che la Lazio non ha giocato bene. Io non sono così d'accordo, il Torino dopo il terzo minuto ha fatto un cadenaccio clamoroso difendendo a 5, mettendo praticamente tutti i giocatori dietro la palla tranne Belotti, per cui non era facilissimo trovare la via della rete, e la Lazio l'ha trovata, ha trovato tantissime occasioni, per cui sì, grande carattere, ma anche gioco. La Lazio secondo me non ha giocato male per niente, anzi, la Lazio ha giocato bene, per cui quelli che dicono che è stato solo carattere, sì, ovviamente il carattere è fondamentale per rispondere, per reagire, però non è stato solo questo, è stato anche una Lazio che sta facendo girare il pallone di più, un Luis Alberto che sta salendo in cattedra, un Johnny sulla fascia sinistra che spinge di più. Abbiamo visto che quando il Torino ha iniziato a fare il cadenaccio, Patrick e Radu salivano a dare una mano al centrocampo, per cui una Lazio che dal punto di vista del gioco, bene, quello che è mancato secondo me è stata la lucidità sottoporta. La Lazio ha asciuppato troppo occasione, rispetto alla Lazio prima della pausa era più concreta quella Lazio. Ciro Immobile quando aveva l'occasione davanti al portiere di solito segnava, contro il Torino ne ha asciuppati almeno due di gol. Quindi l'unica cosa da regissare è questa. Poi vabbè, bisogna vedere chi giocherà in attacco contro il Milan, ma questo sarà un altro video. Tu che ne dici? Iscrivimi i tuoi voti nel commento e mi raccomando iscriviti al canale. Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!